Mangio per 24 ore solo cibo surgelato Si parte alle 7 di mattina con un bel ghiacciolo perché non avevo altro Non sapevo di nulla, quindi per merenda mi sono fatto delle polpette surgelate al pollo Già queste sono state un po' più impegnative ma anche divertenti da cucinare Ma soprattutto morbide e buonissime Mamma mia, una scoperta rega, andrei solo sotto le polpette Spesa di surgelati perché voglio fare una buona colazione con dei cornetti la mattina dopo Si ficcano per bene in freezer, ne approfitto per prendere della pasta al pesto surgelata come tutto Stavo per allagare casa, comunque non sono tipo ravioli ripieni di pesto e robe Ottimo per risparmiare tempo perché si fanno letteralmente in qualche minuto E che non potevo finire con il god dei surgelati, la pizza Ti consiglio di vedere il video completo in cui...